ecco qua oggi pulizia in bagno c'è chi spende per farsene fare ma col fischio che paga una golfer per pulire due piastrelle e due sanità e tu cosa sei ma che fai ti sposti ma dove sei finita? dove sei maledetta? ma allora vuoi la guerra voi? ma allora vuoi la guerra voi? ma mia cara sei pronta per intratà per intratà per intratasso? beh vabbè andate così ma sei sapevo da cavola golfer ciao